Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara e hanno dimostrato veramente grande capabilità oggi, rimanendo concentrati nel momento più difficile e portandosi a casa la gara. Abbiamo assistito a una rimonta, quali sono le tue impressioni? Vincere una partita in rimonta è importantissimo. Al di là delle qualità tecniche messe in campo oggi, la squadra dimostra così anche grande forza dal punto di vista caratteriale. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. È sempre un piacere lavorare con te Fabio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.